Si è sempre detto che arte e vita hanno qualcosa di profondamente in comune, ma credo che la vera urgenza, almeno per me, è quella di cambiare attraverso l'arte il mondo in cui vivo, creare nuovi linguaggi, creare un nuovo rapporto con l'umanità, perché si parte sempre da un porto insicuro che è l'insoddisfazione di dove ci troviamo e di quello che facciamo. L'arte è l'unica possibilità, l'unica capacità di rovinare anche il teatro, così come noi l'abbiamo rovinato per le nostre troiane e quindi per distruggere e ricostruire. L'arte è straordinaria in questo, veramente credo che oggi proprio nel mondo in cui viviamo, nella nostra realtà, credo che sia veramente l'ultimo strumento possibile per cambiare. Io scrivo in italiano, sono siciliana, ma la mia lingua ufficiale è l'italiano, anche se nella vita normale utilizzo molto il dialetto, ma sono sicura, perché me ne accorgo dal ritmo, dai suoni della mia lingua di scrittura, che sotto sotto c'è un piano sotterraneo che viene proprio dalla lingua madre, che dal siciliano, anche se formalmente la mia lingua è l'italiano, ma gli umori interni alla lingua sono quelli della mia nascita.